Salve a tutti, quest'oggi sono come potete, penso molti di voi, vedere nella piazza principale di Prepyat, che è una città, una cittadina fantasma dell'Ucraina attualmente, ma che divenne quello che è adesso quando ancora esisteva l'Unione Sovietica, quando l'Ucraina era parte dell'Unione Sovietica e quindi Prepyat era una città socialista, da Fiore all'Occhiello, tra l'altro, che è molto moderna, del sistema che stava al di là della cortina di ferro, e come sappiamo tutti, la mia generazione sicuramente, ma anche chi è un po' più giovane, saprà, ci fu un incidente nell'86 in cui più o meno qualcosa di simile di quello che è successo a Fukushima, come impatto ambientale eccetera, che ha costretto ad abbandonare la città e lasciarla così com'è negli ultimi 25 anni. Perché cito Prepyat? Perché Prepyat è l'esempio fondamentalmente preso da un libro che si intitola Il mondo senza di nuovi, che parla appunto di quello che succederebbe al mondo se gli uomini sparissero. Il libro è di Alan Weissman, ed è poi stato trasformato in un pregevole documentario, che non so se è stato tradotto ma credo di sì, che su YouTube lo trovate col titolo di Life After People, tra l'altro in inglese, ma credo che ci sia anche in italiano e presumo che il titolo sia qualcosa del tipo La vita in mondo senza di noi, La vita dopo la gente, cose di questo genere. Di cosa parla il libro e perché secondo me è molto interessante, perché come tutti i libri che io reputo interessante è quel tipo di libri che cambia un po' il modo di pensare, di, come dire, trasforma, fa crescere, arricchisce il nostro modo di percepire la realtà. Il libro praticamente, come ho detto, parla del fatto di quello che sarebbe il mondo se non esistessero gli esseri umani, di colpo sparissero. A me personalmente ha toccato molto un piccolo pregiudizio che avevo, e cioè che le strutture umane, gran parte, soprattutto quelle architettoniche, eccetera, resisterebbero per lungo periodo, molti anni, secoli addirittura. Forse perché è viziato dalla visione di monumenti storici passati che hanno resistito anche migliaia di anni, Colosseo, Partenone, eccetera. In realtà non è così. Non è così perché molti dei monumenti che noi vediamo in piedi, le case stesse, ma i monumenti storici che sono in piedi da migliaia di anni, sono ancora lì perché sono stati manutenuti. Cioè hanno avuto una costante opera di ripulitura, rinforzatura, eccetera. Se no non ci sarebbero più. E questo è un pregiudizio che probabilmente molti di noi hanno perché abbiamo la nostra visione limitata al periodo molto limitato della nostra vita e in più non siamo abituati ad accorgerci che continuamente le strutture, anche le più fragili, che a noi sembrano tanto robuste invece, lo sono perché sono continuamente manutenute. C'è una continua operazione di pulizia, di rinforzo, eccetera. Quindi per dire, adesso il libro fa vari esempi, tra l'altro la cosa carina, come anche nel documentario, è che fa l'esempio di cosa succederebbe un giorno, una settimana, un anno, dieci anni, cinquant'anni, cent'anni, eccetera, dopo di noi. E si vede che dopo già vent'anni le strade stesse della città diventerebbero di essere a strade, ma diventerebbero dei prati. E questo lo vediamo bene a Pripyat. Dico le strade della città perché quelle di campagna hanno una vita ancora più limitata, perché essendo più immerse nella natura, quindi nel pulviscolo, nel polvere, eccetera, vengono sommerse molto prima da detriti organici e non, che poi a sua volta fanno da terreno fertile a delle piante, che a sua volta creano terreno fertile morendo, e quindi si crea uno strato che sommerge velocissimamente la strada, tanto che dopo cinque anni, mi pare di ricordare nel libro le strade di campagna e dopo una decina, poco più, le strade di città smettono di essere riconoscibili. Per quanto riguarda i palazzi, i monumenti, eccetera, anche quello che noi consideriamo molto robusto come il cemento è in realtà molto fragile perché è appunto rinforzato da barre ferrose, ma essendo poroso l'acqua si infiltra ogni volta dentro i pori del cemento, con la gelazione gonfiandosi, crea una specie di cricchidraulico che spezza, frantuma il cemento sempre di più e di più, fino ad arrivare a quello che è il cuore del cemento armato, che è il ferro, che tendenzialmente, una volta esposto all'aria, tenderà ad arrugginire. Arrugginendo aumenterà a sua volta di volume e farà una forma di cricchidraulico anche quello e farà sì che crollerà proprio il pilastro o il muro in cemento armato. Questo per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato, quindi i ponti, i ponti di Brooklyn, qualunque altro ponte, eccetera. Non mi ricordo se si parla molto delle strutture in pietra, sicuramente se ne parla. Le strutture in pietra per certi versi sono più robuste perché appunto sono strutture naturali in un certo senso. Anche quelle però sono soggette a operazioni di decadimento, di frizione dell'aria, del tempo, magari anche di saponificazione a volte, quindi anche la pietra stessa è fragile e tende comunque a smussarsi e farsi smussare dalle intemperie. Tutto questo discorso è un libro che è abbastanza complesso, lungo e piacevole. Io se volete vi leggo brevemente l'indice che è diviso in cinque capitoli principali, in quattro capitoli principali anzi. Ci sono anche interessanti cose perché si parla anche di quello che era il mondo prima dell'avvento dell'uomo, cosa che nel documentario su YouTube non c'è. Infatti c'è un capitolo che si intitola Il mondo prima di noi, poi c'è un elenco di quelli che sono i decadimenti generici delle strutture ma anche di quello che è la modificazione della campagna perché l'intera campagna, magari non ci accorgiamo, è fortemente umanizzata, fortemente strutturata dalla presenza dell'uomo. La mancanza dell'uomo creerebbe una situazione sempre velocemente più diversa. Quindi l'Europa prima dell'avvento della civiltà agricole era comprata di foreste. La presenza dell'uomo ha completamente spoliato l'Europa dalle foreste lasciando l'unico rimasuglio di quello che è la foresta che copriva una volta l'intera Europa praticamente. È rimasto in un punto di confine tra la Polonia e la Bielorussia che dovrebbe chiamarsi adesso non ricordo il nome della foresta però c'è questo rimasuglio di foresta vergine appunto tra queste due nazioni che è una piccola parte di quello che appunto era una volta la foresta che operava all'Europa ma era veramente una foresta completamente lasciata a se stessa che è un tipo di paesaggio che noi non siamo assolutamente abituati a vedere e che forse anche se per differenza di climi potrebbe essere paragonato a quello che c'è in Amazzonia. Poi ci sono altri capitoli insomma quanto durerebbero le meraviglie del mondo per esempio si dice che la meraviglia del mondo che forse è più stabile di tutte sono le piramidi perché avendo una struttura fortemente appoggiata a terra e molto monolitica per quanto vengano smussate tendono comunque a rimanere riconoscibili fino a poi però a trasformarsi anche in quelle in una specie di duna o dune non di sabbia ma di materiale più duro ma comunque non sarebbero più riconoscibili anche quelle dopo molto tempo. Mi sembra comunque che le piramidi vengano elencate e in effetti lo sono poi di quelle che furono le meraviglie del mondo di quelle del passato ma anche di quello presente l'unico tipo di meraviglia del mondo che potrebbe resistere più a lungo di tutte quindi probabilmente nell'ordine di migliaia di anni. Poi ci sono altri capitoli sul mondo senza guerra che cosa accaderebbe a certi tipi di specie senza di noi quindi gli animali domestici ma anche alcuni animali che vivono grazie a noi tipo non domestici o comunque pseudo domestici tipo gli scarafaggi o i topi che molte volte si appoggiano sicuramente alla presenza umana gli scarafaggi sono una specie tropicale che non potrebbe vivere alle latitudini a cui è arrivata o in certi posti a cui sono arrivati se non ci fosse la presenza del calore dell'umidità e del cibo che viene fornito in maniera accidentale perché l'uomo non è che vuole foraggiare gli scarafaggi però lo scarafaggio riesce a diventare una specie parassitaria dell'uomo e vive grazie alla presenza dell'uomo senza la presenza dell'uomo gli scarafaggi verrebbero confinati di più alle zone tropicali da cui derivano. si parla anche di malefatte geologiche il discorso del buco nella zona eccetera e si dice che comunque la capacità della terra di digerire quelle che sono state anche le fratture le ferite che gli ha dato l'uomo sarebbero abbastanza veloci questi sono i capitoli principali come dico è un libro che piacevole leggere perché rompe un po' quello che nel caso mio era un pregiudizio che ciò che ha fatto l'uomo fosse molto più duro più resistente a rimanere in realtà non è così e ci sono degli esempi tra cui quello di Pripyat che è un ottimo esempio di una città che per 25 anni è stata abbandonata a se stessa e quindi è ancora riconoscibile ma praticamente tutte le strutture ormai della città sono irrecuperabili se adesso se ne andasse la redditività residua a Pripyat fosse possibile ripopolare questa cittadina di 40-50 mila abitanti potenziali che aveva tutte le strutture sarebbero da abbattere non ci sarebbero strutture recuperabili e non per la redditività ma perché le strutture non avrebbero più la certificazione ad essere abitabili questo avviene anche un esempio simile in una cittadina che si trova nel confine tra Cipro del Nord e Cipro del Sud cioè Cipro in mano turca e Cipro in mano greco-cipriota che è una disputa che avvenne negli anni 70 in cui Cipro venne spezzata in due proprio per dividere le due comunità che abitano le isole insomma conflitti etnici eccetera che cosa accade? che nella zona di confine ci fu praticamente una striscia di una terra di nessuno in questa terra di nessuno erano state costruite dei resort o delle zone turistiche anche di valore queste zone vennero completamente abbandonate perché appunto era una zona di confine non era possibile abitarci più né a livello turistico né a livello di altro tipo lo stesso è capitato in queste zone qui in cui forse il tempo è anche più lungo perché parliamo degli anni 70 e anche lì le strutture sono completamente non sono recuperabili se domani questa striscia di nessuno venisse riaperta al pubblico per essere utilizzata eccetera e i proprietari legittimi teorici di questi alberghi di queste strutture se ne riappropriassero sarebbero costretti ad abbatterli ecco brevemente questo per dire che cosa che le strutture umane sono molto più fragili di quello che sembra noi viviamo nella nostra quotidianità almeno io e credo molti con me convinti che le nostre strutture siano molto più stabili molto più graniticamente solide nel tempo in realtà non è così in realtà tutto quello che l'uomo fa a livello anche proprio concreto non solo culturale eccetera poi si parla anche interessantamente di quelli che sono i lasciati culturali quindi la scrittura, la cultura eccetera e tutte queste cose rischiano anche queste di avere un tempo limitato non è che i film fatti in cellulosa in celluloide hanno una durata eterna non è che i CD-ROM hanno una durata eterna non è che i libri soprattutto hanno una durata eterna perché sono fatti di materiale che uno pensa che se messo via all'asciutto abbia una durata praticamente infinita in realtà non è così in realtà un libro ha una vita media di qualche decina di anni qualche centinaio se è tenuto in buone condizioni ma a certe condizioni ovviamente altrimenti no per esempio in pari che si fa l'esempio di alcuni artefatti umani che duravano moltissimo sono i Voyager le due sonde Voyager e Pioneer che sono molto lontane qualcuna una di queste addirittura ha superato i confini del sistema solare o anche le targhette messe dagli astronauti sulla Luna e ciò che gli astronauti hanno lasciato sulla Luna quindi il rover i resti dell'EM eccetera questi probabilmente resisteranno molto di più perché non saranno soggetti alla usura degli agenti atmosferici terrestri ma anche quelli alla fine dovranno perire forse quando per esempio finirà il sole tra un 4 miliardi di anni quando ci sarà si trasformerà in gigante rossa eccetera forse appunto quello che durerà di più ammesso che non creeremo qualcos'altro che andrà più lontano e più durevole saranno appunto le sonde Voyager e Pioneer perché allontanandosi dal sistema solare si allontaneranno anche dal rischio da quello che sarà i contraccolpi della fine del sole poi ovviamente però nello spazio profondo ci sono dei rischi delle delle potenziali elementi distruttivi che noi neanche possiamo magari immaginare quindi non sappiamo qualche destino andranno incontro è probabile che saranno alcune delle costruzioni artificiali umane che dureranno di più in senso assoluto bene spero che questo video vi farà riflettere come a me ha fatto riflettere il libro spero che leggerete il libro che vi ricordo è Il mondo senza di noi di Alan Weissman scritto alla tedesca W e I e che vedrete anche magari il documentario che c'è su YouTube mi pare sia in inglese spero credo in italiano eccetera e che questo possa permettervi di fare delle riflessioni come è successo a me e ragionare insomma su quella che è la nostra il significato dell'essere umano sulla terra eccetera grazie a tutti e alla prossima